Sei pronto Michele? Sono pronto. Anche io. Le immagini in movimento diventano partiture. Con il video faccio cose che non possono essere fatte se non con il video. Come è nato questo documentario? È nato per un breve lavoro di ritratto di Michele per una sua mostra di illustrazione ancora anni fa. Da lì è nata questa esigenza di raccontare questi quattro decenni della storia di Michele e della storia del suo lavoro che attraversa la storia dell'arte in svariate discipline. Dalla video arte sperimentale al cinema sperimentale fino ad arrivare al digital painting passando per teatro, pittura e tenendo sempre la musica come riferimento. Questo lavoro non è esattamente un documentario classico ma è più che altro una storia. Quindi è sceneggiato. C'è una storia che viene raccontata in cui si cercano di assemblare materiali di archivio a cose che succedono oggi per dare questo senso di continuità. La storia della produzione è iniziata diciamo quattro anni fa e con un inizio diciamo un po' faticoso finché finalmente abbiamo trovato i produttori. Lucio Scarpa di Koblai Filme Venezia in coproduzione con Io le Filme di Francesco Bonsambiante di Padova. E da lì siamo partiti ed è andato tutto il rischio. Sì, veramente molto molto più tranquillo. Esatto. Quindi insomma diciamo tu perché? 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 Io perché? Qual è il messaggio che vogliamo dare anche? Io perché abbiamo fatto questo film? Perché da anni ad un certo punto del mio percorso ho iniziato un'attività didattica diciamolo così sia in ambito universitario che attraverso il teatro, gli allievi eccetera. E quindi mi sono trovato a dover raccontare il mio percorso. È stato fatto attraverso una monografia che appunto tratta le mie diverse anime, anzi no, l'anima è unica e diversi linguaggi, però il libro non ha le immagini in movimento. E quindi era necessario che ci mettessimo insieme per fare un film proprio perché solo attraverso il film si può raccontare il rapporto immagine suono che si sviluppa nel tempo. Questo film quindi cerca di restituire quella che è la complessità e la stratificazione del lavoro di Michele che unisce più discipline e le unisce in un modo molto originale che il film cerca di restituire, cerca di restituire attraverso l'utilizzo particolare del montaggio, l'utilizzo particolare della storia e che non è sempre così semplice raccontare quindi vi invitiamo a vederlo. Abbiamo fatto il film apposta e quindi insomma diciamo sì perché il lavoro vedi come unisce tutto, è la musica giusto che sta? Sì diciamo che la complessità di cui parla Raffaella per me non è complessità, nel senso è verissimo che i linguaggi sono diversi ma il pensiero è unico. Quello che unisce tutto sono diciamo i segni nel tempo, che cosa sono questi segni nel tempo? Sono dei segni che colpiscono lo spettatore da un punto di vista visivo, da un punto di vista uditivo, da un punto di vista del comportamento quando c'è il teatro. Tutto questo accadimento è guidato dalla musica che è l'arte del tempo. E come dire, l'orchestrazione delle varie arti si unifica, si raccoglie attorno alla dimensione musicale. Quindi quando si dice, ah San Bim ne fa di tutte, che cos'è, perché, ecco io cerco di dire che non sono un artista eclettico. No, ma diciamo che ho cercato di non separare quello che nella natura non è separato. Noi quando guardiamo, quando viviamo, non è che diciamo, ah, usiamo solo gli occhi e quindi ambito pittura. Tappo le orecchie, no, siamo aperti a tutto quello che ci circonda e così vorrei che fosse la mia arte. Quindi fagene, fagene sempre. Sempre. Progettare e creare quello che mi sta attorno mi fa star bene. E non c'è differenza tra potare un olivo o suonare il violoncello. È come se i confini tra le cose non esistessero. Come scena io direi quella dell'elefante che poi diventa il cerchio, perché allora un po' è questo discorso del suono che diventa poi qualcosa, il suono che è il suono che è anche gioco che poi diventa musica nella cosa strutturata dell'apertura, nella natura, eccetera. E lì c'è veramente una dimensione molto primaria, primordiale quasi, perché è un'aria soffiata dentro a un tubo. E questo tubo la distribuisce a 360 gradi nell'aria, negli alberi, nella natura, eccetera. Il suono ci circonda. Il suono ci circonda, è il titolo. Mentre, allora, diciamo, se devo pensare invece a una scena che a me mi sta molto a cuore, è proprio quella del teatro, il teatro delle Maddalene, fatto con i giovani, forse perché è proprio il luogo dove io ho incontrato il Tam e quindi la vivo con un'emozione particolare. Scusa, titolo, segni nel tempo, torna la storia. E quindi sì, diciamo che sarebbe quella dove c'è il carrello che attraversa, che passa, e quindi c'è l'immagine delle clip di segni nel tempo proiettate sul muro, che è un muro dell'ovile di casa di Michele. E anche lì la bellezza di questo momento, secondo me, è proprio il fatto che queste figure diventano appunto come segni del tempo, come dei fantasmi, diventano leggere e forti nello stesso tempo, con questa musica che le rende invece vive e sempre presenti nella memoria. Ecco, quindi per me ha quella carica del ricordo. Quindi questa immagine un po' è indefinita, però con quella carica che in questo caso è il suono che ci aiuta, molto forte nella memoria. E questa scena è stata una grande idea di Raffaella perché era molto difficile raccontare il teatro al cinema. Come dire, i materiali di repertorio sarebbe stato piuttosto noioso vederli semplicemente così. Il dispositivo che ha inventato invece li rende di repertorio però vissuti ora. E quindi come se si tornassero a vivere. E poi questo sta anche nella poetica tua, c'è la poetica di dire niente sta in un cassetto ma tutto continua a rivivere. Quindi era anche un sottolineare questo. La mia scena è il finale perché lì c'è, è come dire, un riassuntino. Se non siete stati attenti finora vi diciamo... Tra l'altro io sento molto sambignano, cioè non gne 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 gne, è proprio... No, solo per immagine perché lì si parte tra l'altro da qui sotto, dalla cantina, quindi un luogo molto chiuso a Padova, in un battibaleno ci si trova in aperta natura e attraverso questo dispositivo della pittura digitale scopriamo lentamente che questo buio che ci circonda invece è la natura. Ed è una sorta di apertura verso il futuro, verso nuove scoperte perché all'inizio di questa scena io dico buon viaggio, lo dico a me, a Pierangela e a chi sta guardando. E questo viaggio inizia ma non ha una fine, si apre verso un futuro infinito. La ricerca della bellezza è qualche cosa che ti impegna tutta la vita. Non finisce mai. Tu, Michele Sambini, chi eri e cosa sei oggi? Allora, domandona alla quale rispondo sono la stessa cosa, però la consapevolezza è cambiata. Cioè all'inizio io facevo queste cose come guidato da un'energia, da una forza che veramente mi stupisce. In tutti gli anni 70 la ricerca con i video avveniva in grande solitudine e però determinato continuavo questa avventura. Poi gli eventi mi hanno portato al teatro, vabbè ma adesso non voglio riassumere il percorso. Dicevo che la differenza è la consapevolezza e la consapevolezza arriva probabilmente anche quando uno ha una lunga esperienza. Non c'è che dire, il tempo fa il suo lavoro e diciamo che adesso vedo con grande serenità. se in passato tutto quello che avveniva era molto sofferto nelle gioie e delusioni, più delusioni che gioie. Possiamo anche dire che sei un figlio che ha generato il proprio padre. come Looking for Listening, dove è molto chiaro questo tuo... Sì sì, perché qui torna la poetica del loop. Cioè io veramente non riesco a immaginare che le cose giovanili, perché erano giovanili, siano più deboli delle cose che faccio ora. Assolutamente no, anzi direi che lì c'era un'energia che c'è ancora. Che c'è ancora e che si è trasformata, perché è un disturbo. Sì, e quindi... Il tempo consuma, ma trasforma. Esatto, trasforma veramente, trasforma e rende consapevole. Il tempo consuma le immagini. Il tempo consuma i suoni. Più della vita, il titolo del film, allora, per due motivi. Il primo è un omaggio a Ruzzante, che è una figura di riferimento nel percorso di Michele. Il secondo era anche perché questo titolo ci sembrava un titolo molto positivo, che potesse dare anche questo senso di bellezza, che è poi il messaggio del film. Cioè si può vivere una vita bella e piena, dedicandosi e circondandosi di cose belle. Rispetto a Ruzzante è una figura estremamente importante nel percorso di Michele Sambin, perché ne diventa un suo maestro ideale. E questo anche perché il padre di Michele è stato un grande studioso, no? Di questo... Sì, sì, beh, il papà per tutta la vita ha... Per tutta la vita ha cercato di... Più della vita anche, perché l'ha passato a te e più della vita. Esatto, ed è più... Lui ha sempre studiato la vita di Ruzzante, quindi cercando di modificarne la data di nascita. Cioè no, non modificarne... Trovare quella giusta. Trovare quella giusta. Data di nascita e tante. E questo, voglio dire, a proposito di com'eri... Cioè da piccolo mio papà mi recitava a Ruzzante. No setto che un buon snaturale si emineggio a sega sento slibra son. Allora per chi conosceva mio padre, era una persona assolutamente serissima e... che è omaggio all'Università di Padova. Come dire... Uno non immaginava che potesse partire per queste... E invece in momenti rarissimi si esponeva con queste follie. Quindi la possiamo consigliare ai genitori per i bambini della buonanotte? La favola? No, adesso partiamo con... Ruzzante. Ruzzante. Non so se uno vivesse, ma non è un anno solo. E se esse... Nesseremo vivo? Non sarà vivita la sua. È più lunga. Cade un che vivesse mila anni. E non sei se adesso staremo vivo. Ma dunque la vieni a slungare la vita. C'è questo muo, che fa che qui c'è da vivi, sa ad esser vivi. E mora di vita di un che sappia ad esser vivi. Sì è più vita, è più lunga. Cade un che viva in sua vita, e non sappia più ad esser vivo. Come se non avessi mai avuto. Vita in sua vita. Cade un commento. Sì. 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 Grazie a tutti.